Padovan, la Juve non andrà in Champions League, forse subirà altri due rigori. Pogba. Bisogna capire se troverà continuità. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Giancarlo Padovan, ospite di Sky Sport, ha così commentato la Juventus, la Juve non andrà in Champions League, è bene essere chiari, anche se recupera 10 punti perché dopo la prima penalità, c'è un secondo e forse anche un terzo ed è inutile ingannare il pubblico bianconero. Ma ci sono giocatori che fanno cose straordinarie. Oggi la Juve è seconda in campionato e sul campo ha fatto 50 punti e sono numeri che nessuno può togliere e che indicano il valore della squadra e il valore di quello che stanno facendo. I giocatori stanno giocando per dimostrare che sono una squadra forte e per dimostrare che senza il rigore sarebbero la seconda forza del campionato. Credo che la Juve stia giocando per questo e il suo pubblico e cercando di essere nella tempesta, una squadra seria. Pogba. I punti interrogativi rimangono fino a quando il suo uso è continuo. Per ora è importante ritrovarlo, da lui è venuto il quarto gol nel derby e sapevamo che era un giocatore importante, ora dobbiamo vendere se troverà continuità e per quanto tempo le sue radici saranno alla Juve.